La manutenzione è semplicissima. Quella ordinaria può essere fatta senza svuotare l'impianto e senza smontare il defangatore. È sufficiente estrarre il magnete e aprire il rubinetto di scarico per qualche secondo, facendo defluire tutte le impurità. Per la manutenzione straordinaria è sufficiente aprire il defangatore e sciacquare sotto acqua corrente il filtro e la camera di decantazione. Entrambe le procedure sono consultabili nel foglio di istruzioni.